Involta stamani, presso la Sala Consiliare del Comune di Tao Ormina, la presentazione ufficiale della Camera Nazionale Giovani Fashion Designer. La Camera Nazionale Giovani Fashion Designer, istituita dal Comitato Italia Arte e Fashion, composto da illustri personaggi del mondo della mode e dell'arte, coordina e promuove lo sviluppo dell'arte insensolato e della moda in tutte le sue sfaccettature, nel proprio territorio regionale di appartenenza in Italia e nel mondo. Priorità assoluta della Camera Nazionale Giovani Fashion Designer è quella di valorizzare, promuovere e sostenere i talenti emergenti della classe creativa, dando vita ad iniziative ed eventi che tengano conto della nuova generazione, offrendo possibilità di confronto, formazione, crescita professionale e visibilità, poiché il proprio motto è New Generation. Fashion Designer è la prima tappa della conferenza stampa, che si avverrà poi presentata sul Reggio Penabria, Roma e poi su Palermo. La Camera Nazionale Giovani Fashion Designer nasce per darvi un'identità specifica e un peso specifico alle piccole e medie imprese e al brand massimo. Abbraccia non soltanto il settore della moda, ma anche nell'arte, della musica, del cinema, del teatro. Partiremo con le affiliazioni delle aziende a maggio, il tempo necessario per definire tutte le conferenze stampa in giro per l'Italia. Quindi avrete modo di visitare il sito della Camera Nazionale dei Giovani Fashion Designer all'indirizzo www.cameranazionale.it e vi troverete tutte le notizie inerenti sia alla giornata di oggi che tutte le iniziative che verranno svolte da oggi in poi.